E quel bambino ci disse che è l'assassino, perché così lo dobbiamo chiamare. L'assassino chiamò Claudio col suo nome, Claudio vieni qua. E Claudio, un bambino che non aveva paura perché non era abituato ad averne, ci andò incontro e lui con un solo colpo di pistola lo lasciò lì, freddo a terra. 41 bis e 4 bis. L'abbiamo avuto noi familiari delle vittime di mafia, non l'hanno avuto questi delinquenti. Loro sanno che cosa fanno. Noi non sappiamo cosa può succedere ai nostri cari e ai nostri figli. La forza dell'uomo onesto è il rispetto delle leggi, mentre quello del mafioso è la violenza fisica e morale e hanno saputo fare a un bambino di 11 anni.